E' battuto da Patrick Sjöberg che ha saltato 2.42. Rivediamo. Sjöberg che è stato secondo a Los Angeles e secondo ai campionati del mondo di Helsinki. Un grandissimo risultato, quindi ha nobilitato il meeting di Stoccolma, quarta tappa del Grand Prix. Patrick Sjöberg, grande appassionato di calcio, segue in particolare la squadra della sua città, l'IFK Göteborg, ma che si è dedicato anche al basket e all'ho, che ancora oggi si diverte a giocare a pallacanestro, giocando con una squadra di terza divisione. Ha abbandonato la scuola a 16 anni proprio per dedicarsi anima e corpo all'atletica leggera e diventare il migliore nel salto in alto. C'è finalmente riuscito, anche all'aperto, saltando 2.42. Questo è il salto mondiale di Patrick Sjöberg, l'atleta svedese. Chiudiamo così la nostra telecronaca, ringraziando per il montaggio Gianni De Propris e i collaboratori dello Studio 12 di Roma.